Salve a tutti carissimi libri in pillolini e ben ritrovati ad un altro videino di quelli belli sulle cose Cthulhuiane che piacciono a noi. Lo chiamerò un titolo proprio così, no scherzo. Questo ci tenevo particolarmente a mostrarvelo anche perché comunque è una cosa abbastanza recente, sembra che è del 2020 se non sbaglio, in particolare questa edizione. E il richiamo di Cthulhu come potete ben vedere, qui in basso dice di chi adattamento e disegni del maestro Goutanabe. Quindi questo è giapponese, è un manga, l'adattamento forse più bello in fumetto del richiamo di Cthulhu. Ovviamente sapete che Goutanabe è un maestro, insomma in questo ha fatto praticamente tutto Lovecraft più o meno, lui è diciamo considerato il mangaka che è il più proficuo, il più bravo nell'adattare Lovecraft anche perché è un maestro dell'horror in generale. E qui abbiamo l'edizione molto bella che ha fatto la J-pop, appunto se non sbaglio nel 2020 che comunque si trova ancora in vendita, poi vi metto il link giù in descrizione su Amazon. Dovrebbe, da nuovo costava 20 euro ma adesso ho visto che su Amazon si trova a 17. Questa versione qui che è quella in copertina rigida, si trova ovviamente in copertina morbida a 6 euro. Io ve lo consiglio in ogni caso, in qualsiasi formato perché è bello comunque in entrambi. Ora lo sfogliamo, vi faccio vedere un pochino meglio tutto qui. Ecco qui nella costoletta, non so se si vede il richiamo di Cthulhu, eccetera eccetera. C'è tutto scritto, bellino. Il retro, sapete che i giapponesi i libri li leggono al contrario. Il retro, che per noi sarebbe la copertina, ha, come vedete, una bellissima descrizione che vi vado a leggere. Marzo 1925. In tutto il mondo artisti e altri individui dalla fertile immaginazione sono tormentati da visioni di incubo e tutte con qualcosa in comune. Una voce misteriosa che rimbomba in una città dalle geometrie impossibili e una figura tentacolare che estende la sua ombra aliena sull'umanità. Intanto, nel bel mezzo dell'oceano, terrificanti terremoti sembrano confermare la veridicità di pericolose leggende. Credo di aver sputacchiato leggermente, perdonatemi. Gautanabe, continuando la sua pluripremiata serie di adattamenti, rilegge a fumetti il racconto di H.P. Lovecraft, simbolo della filosofia dell'orrore cosmico che ha gettato le basi dei miti di Cthulhu. Scusate, ho avuto un po' di difficoltà perché ho la luce proprio lì, forse si capisce. La luce è anche qua in alto, qua su dietro. È una luce di qua dietro. Però, siccome è nero sul verde scuro, non è molto facile da leggere. Qui in basso, vedete che c'è proprio scritto J-Pop, 20 euro. In realtà su Amazon lo trovate a 17. Questo, ovviamente. Andiamo a sfogliarlo un attimino, vediamo un po' cosa c'è dentro. Magari leggiamo qualche passaggio simpatico. Guardate che bello, anche qui, nero. Questo è argentato, non è bianco. Molto bello, molto interessante. Mettiamolo al centro. Ecco qua. Qui vedete a colori. Nella sua dimora, Arlie, il morto Cthulhu attende sognando. E qui c'è tutta l'introduzione addirittura di Algernon Blackwood. Vedete che bello. Sia in inglese, qua su, che in italiano, qua giù. Da un appunto ritrovato tra i documenti del compianto Francis Wayland Thurston di Ballston. Da qualche parte su questa terra devono celarsi ancora oggi degli esseri, dalle forme e dai poteri così inumani da superare qualsiasi nostra immaginazione. Un residuo di un periodo estremamente antico. In un remoto passato, tali forme devono essersi manifestate nel nostro mondo, per poi ritrarsi davanti all'avanzare dell'umanità. Solo la poesia e le leggende sono state in grado di fissare tale immagini in una memoria che si fa sempre più fugace, dando loro il nome di dei, mostri ed esseri mitologici di ogni sorta. Algernon Blackwood. Non so se questo è un estratto forse dei Salici. No, perché dice, da un appunto ritrovato dai documenti, è compiuto? No, non credo. Comunque è interessante. E poi qui, di nuovo, c'è una noticina, che dice, il richiamo di Cthulhu, pubblicato nel 1928 sulla rivista Pulp Weird Tales. Questo racconto è ricordato come uno dei più rappresentativi di H.P. Lovecraft e dell'intero ciclo di Cthulhu. Un'espressione originata proprio dal forte impatto esercitato da questo scritto ed è venuta con il tempo l'appellativo per indicare quella parte della produzione lovecraftiana legata a un immaginario universo mitico condiviso. Il richiamo di Cthulhu, inoltre, rappresenta da sempre una profonda fonte di ispirazione per molti scrittori, primo tra tutti Robert Irving Howard, autore della serie Conan il Barbaro, anche Carnaki, ma anche... No, Carnaki, ma anche... Cultiva Lusia, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Qui è bianco, invece, questo è bianco. E abbiamo, vedete, tutto, no? Abbiamo i capitoli, l'orore di argilla, il racconto dell'ispettore Legrasse, qui lui ha ovviamente un pochino allungato perché questi non ci sarebbero, il terzo capitolo sarebbe la follia che viene dal mare, comunque non ci sta, insomma. Ovviamente, sono 236 pagine, quindi per i vostri 17 euro, insomma, vale, eh? Vale quello che costa. Guardate che bei disegni, qui sfogliamo, vediamo un po'. Qui è lui che ha timore, no, di tutto. Calmati, devi calmarti. Ormai per me non esiste più un rifugio sicuro. Scriverò un resoconto dei fatti. Guardate che bello. Bella, eh? Grande arte, eh? Ormai io so. Ormai io conosco la verità che sarebbe dovuta restare per sempre celata all'umanità. Io so del titanico essere che giace nascosto su questa nostra terra e che trascende ogni immaginazione. The Call of Cthulhu. Questo con il carattere, proprio questa è la calligrafia di Lovecraft. Guardate che bello. 1926. Providence, stato di Rhode Island. Eh? Guardate che bello. Questo credo sia il funerale dello zio, no, Angel? George G. Angel. Eccolo lì, sì. È proprio lui. Foglio un po' a caso, così vedete, insomma, no? Molto... Fa molto giapponese che disegna gli occidentali, però comunque è molto bravo, eh? Questo non c'è niente da dire, assolutamente. Sto sfogliando veramente saltando pagine, ma per farvi vedere le varie robe, questi sono i vari appunti di giornale, no? Che lo zio aveva raccolto, vi ricordate il richiamo di Cthulhu? Molto bello. E allora lui comincia a fare un'indagine per conto suo. Nella sua dimora, dirli è, il morto Cthulhu attende sognando. Guardate un po' quest'idolo. E guardate un po' quest'idolo. Molto, eh? Molto, molto somigliato. Guardate, guardate che roba. Anche qui i caratterini, guardate. Guardate che roba. Fantastico. Questo tra l'altro ve lo rilinco per chi se lo fosse perso il video di questo. Questo è meraviglioso. 19 euro per questo idolo di Cthulhu che è tra l'altro perfetto, esattamente come quello descritto nel racconto. Infatti vedete che assomiglia pure a questo. che lui ha disegnato, ovviamente ispirandosi al vero romanzo. Fantastico. Ve lo linko poi, vi metto il link sempre giù nella descrizione al prodotto su Amazon e al mio video. Fantastico. E andiamo avanti. Volevo solo sfogliare qualche pagina per farvi vedere, eh? Non ve lo sto a spoilerare tutto. Ovviamente se state guardando questo video, penso il 90% di voi il richiamo di Cthulhu lo conosce. Però comunque interessante. Guardate che bello. Guardate che arte. è fantastica. È un genio, non c'è niente da dire, eh? È veramente un genio, Tanabe. Guardate che spettacolo. Gli antichi sono discesi. Questo è Zadokallen. Gli antichi sono discesi sulla Terra molto tempo prima. No, sto scherzando. Non è Zadokallen quello nella maschera di Innsmouth. Però gli assomigliava un po' al vecchiaccio, no? Il vecchiardo. E' come lo disegnerei io, Zadokallen in quel modo lì. Ok, andiamo avanti. Qui c'è la cittadina meravigliosa. Uh, ok. Ecco qui, stanno arrivando a Arlie. Guardate che meraviglia. Ah, che bello. Sì, guardate che spettacolo, dai. Come fai a rimanere neutrale di fronte a quest'arte meravigliosa? Guardate che spettacolo. Con Cthulhu che esce dal portale, no? Boh, bellissimo. Che opera. Qui abbiamo il finale. Lui che... Oddio, oddio, oddio. Eccolo qua. I mille occhi di Cthulhu. Ok. The Call of Cthulhu. Cthulhu cult. Il culto di Cthulhu. Ed ecco The End. Ed è colui che viene ucciso, proprio molto probabilmente, o comunque impazzisce. Molto interessante. Qui c'è una noticina, un po' di biografia su Gotanabe. La leggiamo. Nasce a Tokyo nel 1975. Nel 2001 si aggiudica con Sunakichi il premio speciale della giuria in occasione degli Afternoon Shiki Show con Kaiji Kawaguchi nella commissione esaminatrice. Mentre nel 2002, alla quarta edizione degli Enterbrain Entertainment Awards, ottiene una menzione d'onore per l'adattamento di 26 uomini e una ragazza. dal racconto di Maxim Gorky. Dalle sue opere più importanti figurano Saudade, opera originale Carib Song, e Kasané, dal racconto Shinkei Kasané, Ga Fuchi, di San Yutei Encho, a cura di Hiroaki Takeda. Dalla pubblicazione del manga The Outsider, nel 2004, continua con passione a confrontarsi con opera di Lovecraft, ottenendo importanti riconoscimenti in tutto il mondo, grazie all'altissima qualità del suo lavoro, l'avete visto, insomma, in questo volume. Conclusione, abbiamo tra l'altro il nostro team italiano, vedete la traduzione di Silvia Ricci, l'editing di Federico Salvan e il lettering di Massimiliano Lucidi. Tra l'altro stampato a Verolengo, Torino, quindi in Piemonte. In Piemonte. Molto bene. Molto, molto bello. Una grande, grande opera. Tra l'altro a me questo è stato regalato da un caro amico che ringrazio. Mi mando un abbraccione. L'anno scorso, tra l'altro, per Natale. E nulla, questo era il volume, questo era il richiamo di Cthulhu, spero che non si sia impolverato. Il tavolo è pulito, ma si sa mai qui. La polvere è sempre in agguato. Io vi ringrazio tutti. Di nuovo vi lascio il link giù in descrizione se lo volete acquistare, se lo volete dare un'occhiata. Anche in copertina morbida vale comunque la pena perché i disegni sono quelli. Questo ovviamente rispetta la copertina morbida. Vedete, è più grande. Insomma, questa è la mia mano. Quello in copertina morbida probabilmente sarà grande così, immagino. Di solito quelli della J-pop hanno quelle dimensioni lì. Quindi questo è un po' più grande. Molto bello, molto bello. Vale la pena, secondo me. Vi lascio il link. Grazie a tutti per aver guardato questo video e al prossimo audiolibro, al prossimo video. Un abbraccione da LibriPillole. Alla prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.